Il tema dei diritti è un tema molto caro alla pedagogia moderna e contemporanea, soprattutto in relazione a quelli che sono i diritti fondamentali del bambino, partire dal diritto al nome, alla casa, al gioco, all'alimentazione, al diritto alla cura, alla famiglia, all'istruzione, alla tutela, eccetera. Nonostante questa insistenza e questa sensibilità che si è manifestata in tutto il Novecento, che è il secolo dell'infanzia, ancora oggi assistiamo alla sistematica violazione che viene fatta nei confronti dei diritti dei bambini in tutte le aree del mondo, a partire da quelle svantaggiate per arrivare alle aree metropolitane delle nostre città civilizzate, per così dire. Questa violazione dei diritti del bambino avviene in una dimensione macrosociale, quindi attraverso lo sfruttamento, la guerra, la povertà, la criminalità e l'abbandono, per arrivare ad una dimensione microsociale che si concretizza nelle situazioni di maltrattamento, di abuso, di incomprensione, di negazione della diversità, di espropriazione vitale, della stimolazione eccessiva a cui vengono sottoposti i bambini di ogni età, dagli adulti, e anche appunto da un fenomeno che è molto frequente, soprattutto nelle società occidentali, che è quello della adultizzazione e della mercificazione dell'infanzia.